Fai più buio? Sì. Ecco, così. Adesso esci fuori nel corridoio e dopo un po' rientra come se sbagliassi camera e trovassi uno sconosciuto. Carino, questo non l'abbiamo mai fatto. Ferma così, fate un po' vedere. No, non c'è un trucco più... Più come? Più da porca. Vieni qua, dammi la matita. Stai ferma. Bello questo lampadario. Sì, sì. No, perché voglio prendere... Ma stai ferma. Come si chiama quest'albergo? Nella ferrovia. Ah, voglio scrivere al mio marito, così mi manda subito un espresso. Vedessi che belle lettere che mi scrive. Poi te le faccio leggere. Sì, sì, ma se non stai ferma, no? Fai la faccia da porca. Sì. Spicca, riesci a fare un secondo. Ah, ma ora è una parte che devo fare. Sì. Hai preso per me delle tue attrici. Vai, vai fuori. Perché credi che non sarei capace di fare come loro? Ti piace o no, sai? Non piacerebbe mica fare quella vita di noi. A me piace starmene a casa. Su, riesci che io dormo. Shhh. Dì un po'. Se la facessi sul serio questa cosa, saresti geloso. Ma perché? La faresti sul serio? Chi lo sa?